Ciao, mi chiamo Anna Valbuse, ho 18 anni. La mia città è Verona, dove frequento l'ultimo anno di liceo scientifico. Mi piace tenermi impegnata, infatti seguo un corso di teatro e suono il pianoforte. Ho sempre preferito i libri allo sport, infatti ho 10 in italiano e 2 in gisnastica. L'anno prossimo mi aspetta l'università, non chiedetemi quale, sempre se sopravviverò al tentativo di prendere la patente. Un saluto a tutti!